amici di chiasso tv bentornati ben ritrovati e siamo di nuovo con il nostro amico luca bocci siamo in attesa fremente di sapere cosa succederà negli stati uniti e al mondo intero il 5 novembre insomma luca chi vincerà secondo te le le previsioni sono molto confuse io per ora ho letto una cosa che ci sono alcuni alcuni candidati al congresso democratici che hanno che hanno già detto noi non certificheremo la vittoria di tra che vuol dire che secondo me i sondaggi interni che sono quelli affidabili non quelli che sono massaggiati per prendere per mutare l'opinione pubblica stanno dando tempesta piena da quel punto di vista il fatto stesso che biden e obama al funerale al funerale di etel kennedy la la madre insomma la la signora del del clan kennedy che è passata miglior vita qualche giorno fa stavano provando a leggere il labiale perché era troppo lontano c'era troppo rumore c'è qualcuno che ha detto a obama dice che obama prendeva e diceva she's done cioè lei e e la fu siccome immobile cosa c'è è finita non c'è non c'è niente da fare ormai è perso perché altrimenti se no con robert kennedy junior talsi gabba dello musk che si mette lì a prendere a dire adesso taglio l'ottanta per cento dell'amministrazione la vedo veramente grigia per per i per i suoi avversari perché la vendetta di trump almeno da quanto si è capito la vendetta è adesso mi carico nella mia amministrazione tutti quelli che i democratici hanno preso hanno schifato che gli erano fatte di tutti i colori e gli do mano libera quindi a robert kennedy junior di prendo vai un po a vedere big pharma che portate sta facendo quei vaccini con le medicine che costano dieci volte tanto eccetera eccetera a talsi gabba dei dico ma adesso vai un po a vedere che cosa stavano facendo nei militari che hanno messo l'ammiraglio che adesso adesso dice che una donna e luoghi smo scatenato che non so se avevi letto questa storia di quella successa in nuova zelanda ovvero praticamente di una una fregata tra 100 milioni di dollari eccetera che è affondata semplicemente perché il capitano che era inglese ma era ovviamente lei è lesbica quindi bisogna per forza portarla avanti ha fatto una serie di errori dopo le altre si è incagliata su un coso è andata picco 100 milioni di dollari buttati via perché c'avevi questa che doveva esserci lì perché siamo siamo avanti siamo progressisti se ci arriva talsi gabbard che una che l'ha fatte le guerre eccetera so guai se ilon musk mette mano all'amministrazione federale fa come ha fatto con x con twitter ovvero licenza l'ottanta per cento delle persone e l'amministrazione va meglio cioè questa è la vendetta che c'è il che spiega perché molti siano siano veramente a livelli di disperazioni perché dicono che in questo punto forse è meglio limitarlo per evitare che faccia danni